Grazie a tutti. Grazie a tutti. Penso specialmente alla Scuola Sopo Veneri, che opera presso l'autofizio e la linea dell'espieza, e alla Fondazione Opionios. La partita di questa sera sarà certamente occasione per raccontare il fondo sostiene di presenti di solidarietà, ma soprattutto per reprendere sul valore universale che il campo e lo supporto in gente possa favorire. La realtà, la tradizione, la prevenenza, il diablo, la fiducia clara, si tratta di lavoro che apremuniano a una persona a prescindere della razza, della cultura e della creazione di tutti. Anzi, l'evento sportivo di questa sera è un testo altamente buono per far capire è possibile costruire la cultura dell'uomo che è un modo di pace dove credenti di religione universa conservate la loro identità. perché quando l'evento prescindere si può dire lasciare la carta, credenti di religione diversa.